Mi chiamo Davide Fiore, ho vent'anni e lavoro come posatore giuntista. Ho lasciato la scuola a 15 anni. L'Elis mi ha dato questa opportunità di formazione, mi ha portato nel mondo del lavoro e anche grazie al corso di Second Chance ho potuto acquisire un attestato di qualifica professionale in elettrotecnica. Il programma Second Chance è un percorso che permette il recupero degli anni scolastici ai ragazzi che per vari motivi hanno dovuto lasciare scuola prima di tempo e li permette di avere una nuova opportunità. Ho scelto il corso della fibra ottica perché in Italia ancora c'è il 30% in fibra ottica, è il 70% in rame, quindi dovrà essere tutto sostituito, ricambiato. Ho imparato tutte le competenze tecniche riguardanti l'ambito di giuntista posatore di fibra. La cosa sorprendente è che da quando ho finito il corso, il 3 dicembre, ho trovato già un'occupazione per un'azienda anche grazie all'Elis. Lavorerò per la Cebat come posatore giuntista di fibra ottica. Grazie alla Borsa di Studio, Davide ha potuto partecipare al corso per tecnici di fibra ottica. La sua testimonianza conferma ancora una volta il valore di Elis, che crede in questi ragazzi che vogliono rimettersi in gioco e li accompagna a realizzare il loro progetto di vita. Grazie a Elis ho avuto una seconda opportunità, perché col fatto che ho mollato scuola, col fatto che facevo lavori precari e tutto, però si può sempre ripartire, ripartire magari da zero, ma con la forza e volontà puoi fare tutto. Quindi riniziare a studiare, rimetterti tra i banchi non è stato facile, però se ci metti il tuo, ci metti l'impegno, ci metti tutta la volontà che ci puoi mettere, ottieni grandissimi risultati e adesso sto lavorando. Grazie a Elis si può trovare una cosa che davvero gli piace e che se la può portare per tutta la vita di Elis. Grazie a Elis. Grazie a Elis. Grazie a Elis.